Sì alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A e di Serie B. I campionati 2016-2017 sono stati presentati alla stampa nazionale nel corso dell'evento organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile LND guidato dal delegato Sandro Morgana nella prestigiosa cornice del circolo del tennis al Foro Italico a Roma. Partenza fissata al primo weekend di ottobre con la massima serie a scendere in campo sabato primo alle ore 15, segue domenica 2 quella cadetta allo stesso orario. Tanti gli ospiti di livello che hanno preso parte l'appuntamento a cominciare dal presidente FIGICI Carlo Tavecchio e da quello della Lega Nazionale di Lettanti Antonio Cosentino. Insieme a loro tutti i maggiori rappresentanti del calcio italiano ed alcuni esponenti della politica nazionale a testimonianza di quanto il movimento femminile sia il centro dell'agenda delle istituzioni sportive impegnate a promuoverne lo sviluppo. L'incontro è servito anche per svelare il nuovo partner del calcio femminile nazionale Select. Lo storico marchio danese ha messo la sua firma sul pallone ufficiale della Serie A Atena in omaggio alla divinità greca della Sapienza che farà il suo debutto in occasione della Supercoppa 2016 in programma il prossimo 28 settembre allo stadio Rino Mercante di Bassano del Grapp. Per quanto riguarda le squadre pugliesi la Puglia Trani comincerà il campionato di Serie B nel girone D con le laziali del grifone giallo-verde con pagine della Guardia di Finanza. Lo sviluppo è tantissimo, è un progetto con un risultato a medio e lungo termine perché comunque ci vuole il tempo giusto per creare anche quelle aspettative che per portare appunto il calcio femminile e tutto il movimento a una certa dimensione. Ci vuole il suo tempo, il nord Europa si è mosso su questo piano molto prima che in Italia e ha raggiunto dei grandi risultati. Bisogna lavorare piano piano, convincere tutto il mondo calcistico italiano che è importante questo allargamento. Ci sono molte ragazze che amano giocare al calcio e quindi bisogna dare loro la possibilità di inserirsi a qualsiasi livello. E' chiaro che ci mancano un po' le strutture, manca la cultura come ho detto prima, manca anche il problema della scuola. Noi dobbiamo avere la possibilità di entrare nell'ambito della scuola e fare calcio nell'ambito della scuola o la scuola attraverso le nostre società. Questo perché si deve fare formazione, si deve fare una indicazione di poter, le società di poter avere ragazzine che possano reclutare. Se non c'è reclutamento non si va avanti, gli sforzi delle società sono sforzi già abbastanza pesanti, però se hanno la possibilità di avere bambine e fare reclutamento, di fare attività scolastica o calcio scuola e fare un'attività di settore giovanile valido, lentamente le cose progrediscono, ma progrediscono bene. Deve avere un collegamento con la scuola. Se questo avviene con una scuola, se questo avviene noi avremo 60 società che in 60 scuole d'Italia svilupperanno questo progetto. Sembra che lo avremo finanziato, sembra che a questa nostra iniziativa crederanno e quindi si potrà fare, non ci sono dubbi.